Aveva deciso di trascorrere la latitanza in un comodo bungalow del resort Costa degli Dei a Ricadi. La fuga di Antonio Cilona, 35 anni, esponente dell'andrina Santaiti di Seminara, è finita ieri quando la squadra mobile di Vibo Valencia ha fatto scattare le manette ai polsi dell'uomo. Cilona è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio nel 2006 di Carmelo Ditto, il cognato di Antonio Gallico, esponente dell'omonimo clan palmese. L'uomo era latitante da quando, nello scorso luglio, la corte di Assise d'Appello di Reggio aveva emesso il verdetto di condanna a suo carico. Nel momento in cui i poliziotti l'hanno sorpreso all'interno del bungalow sulla costa vibonese, il latitante era disarmato e non ha opposto resistenza. Sapendosi completamente circondato dalla cintura che gli uomini della mobile avevano disposto attorno alla struttura. Antonio Cilona è il primo latitante catturato in Italia nel 2016. Il primo latitante catturato in Italia nel 2016.